Pala Carrara tutto esaurito e colorato per una gara che potrebbe regalare un'altra grande soddisfazione agli sportivi di Fede Biancorossa. Di fronte ci saranno Gioge Tesi Gruppo e Pasta Reggio a Caserta, le uniche rimaste in corsa per un posto playoff. Conti alla mano, in caso di arrivo a due a quota 30, la squadra di Paolo Moretti avrà bisogno di vincere di sette o più punti. Se Reggio Emilia, che è comunque matematicamente qualificata, dovesse perdere da Vellino, allora Galanda e compagni basterà superare i campani di tre lunghezze. La tensione aumenta, si avvicina alla partita, siamo carichi, vediamo come andrà e sappiamo che, come hai detto tu, il punteggio lo guarderemo alla fine. Che cosa sapete della formazione campana? La stiamo preparando, sappiamo che è simile a noi e quindi dovremo stare attenti soprattutto al loro gioco anche in contropiede. Andiamo a giocare comunque carichi sapendo che sarà una partita lunga e fino all'ultimo minuto non dovremo mai mollare. Palacarrara tutto esaurito da giorni. Per i biglietti mi viene a dire un disastro perché non se ne trova più uno da martedì sera, però meglio così, ben venga. Sul fronte campano c'è fiducia in un possibile blitz degli uomini di coach Molin. Andiamo in Toscana, detto il tecnico bianconero in sede di presentazione, con la serenità di chi sa di aver pienamente raggiunto i propri obiettivi e di avere comunque disputato un campionato importante. Nel giro di ritorno siamo tra le prime quattro squadre del torneo e questo dimostra anche la crescita che abbiamo avuto nel corso della stagione. La chiave della partita, concluso l'Ele Molin, sarà nel nostro attacco e nell'evitare loro canestri facili in transizione. In Casa Biancorossa c'è la consapevolezza che comunque vada a finire sarà sicuramente una festa per una stagione straordinaria da inserire con soddisfazione nella storia del basket pistoiese.